Ciao Matteo, allora oggi ho qui con me uno dei componenti della Biala Color School dopo capiremo il ruolo che hai anche nello specifico all'interno della vostra associazione perché è un'associazione, mi hai spiegato ho ascoltato molto la vostra storia, quello che avete fatto e mi ha incuriosito molto per questo vi ho proposto l'intervista e siete stati anche molto gentili ad accettarla, sono molto contento oggi però se qui io parto sempre facendo riferimento alla scuola, soprattutto alla parte adolescenziale quindi da quando si parte dalla prima superiore fino alla fine perché è un periodo secondo me molto importante dal punto di vista del nostro cervello perché ti indirizza, ti fa prendere delle strade che ti fanno crescere autonomamente quindi ti chiedo, so che hai fatto il buona quindi ti chiedo che importanza ha avuto per te questo istituto e soprattutto se ce n'è una l'opportunità più grande che ti ha dato allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito il buona è stato importante a livello di conoscenze nel senso che ha fatto sì che io conoscessi le persone che effettivamente ora lavorano in Biala Color e anche a livello di competenze, nel senso che mi ha dato una base di competenze che è necessaria per affrontare questo mondo un po' ai tempi non conosciuto per me sì, non un uomo quindi nel senso che mi ha dato delle basi a livello economico e anche a livello di contatti perché comunque grazie alla preside del buona che attualmente è ancora in carica dei contatti con le altre scuole per far sì che questo evento parlesse piede in tutti gli istituti di Biela e non solo per il buona mi hai parlato di figure importanti che hai conosciuto e mi hai raccontato che hai conosciuto soprattutto una professoressa che per voi è stata molto importante all'interno della Biala Color School che è la professoressa De Bianchi esatto e adesso mi parlerai un po' di lei e ti voglio chiedere cos'è che ti ha colpito in maniera molto importante questa professoressa beh, Silvia era il primo anno che era al Bona e sul consiglio del mio professore di ginnastica ha detto è arrivata questa nuova professoressa, provate a chiedere a lei se è interessata a questo nuovo progetto noi un po' l'abbiamo fatto per scherzo, nel senso che tutti i miei compagni andavano alla Color Run a Torino diciamo perché devo andare fino a Torino per farla? La portiamo a Biella, fantastico, iniziamo Silvia ci ha creduto fino al primo momento, ha detto vabbè sì dai, 150 persone, 200 persone facciamo facciamo un eventino piccolino, ci sta? Poi mi ricordo, torniamo alle vacanze di Natale controlliamo il sito, 1550 persone iscritte dopo Natale, che poi sarebbero diventate 2500 per la Color e quindi lì è iniziato un po' il delirio, nel senso che abbiamo iniziato con conoscenze e cose varie a iniziare a mettere su quello che è questo primo Biala Color Silvia ha già una sua azienda, nel senso che è un'imprenditrice e quindi già una persona intraprendente e poi è molto giovanile, quindi è dalla parte dei giovani, dalla parte nostra in qualsiasi caso nel senso che lei si spende molto anche nel suo lavoro a far sì che i ragazzi non vivono la scuola come un obbligo ma come anche un divertimento, come vogliamo che sia la giornata di Biala Color perché è una giornata di scuola che loro vivono in maniera diversa, non dietro un banco e quindi mi hai spiegato un po' come è nato il progetto che tra l'altro le cose più belle, io lo sto sentendo un po' da tutti, nascono per caso nel senso che il vostro sicuramente non è un caso però comunque mi hai detto vi aspettate 150 persone poi aprite, vedete 2500 in quel momento, ok wow, felicità, nel senso che non me l'aspetto, entusiasmo a mille però poi dopo come affronti questa cosa? più che entusiasmo, paura sono delle aspettative che poi tu devi andare a cercare di far sì che tu di soddisfare esatto, devi soddisfare delle aspettative e non sai come fare perché io avevo 16 anni i ragazzi che lavoravano con Biala Color avevano 16 anni anche loro Silvia, va bene, ok però neanche lei aveva mai fatto un evento così grande quindi cerchi di fare quello che abbiamo fatto nel senso di mettere insieme i pezzi di fare le cose un passo per volta senza mai fare il passo più lungo della gamba e cercare di fare le cose che eravamo capaci di fare cioè Silvia con i suoi fornitori dell'azienda abbiamo con una base di contatti abbiamo con tutte le persone che potessero aiutarci mio padre con il suo lavoro ci ha dato i contatti altri ragazzi con i genitori ci hanno dato i contatti abbiamo fatto sì che creassimo la prima parte di famiglia di Biala Color ma ci ho impresso queste 150 persone che poi sono diventate 2500 che idea avevate? cioè non so, avevate qualche idea di dove fare l'evento con 150? come vi siete comportati? tutto è nato da lo facciamo in piazza del mercato quella giù sì sì sì, ok il skate park, ok solo che il problema che poi è nato è il controllo degli accrediti adesso noi facciamo pagare un biglietto quindi un luogo aperto era incontrollabile, ingestibile quindi quando abbiamo contattato un signore che si occupa di corse che si chiama Claudio Piana che è una situazione sportiva ok, ci ha consigliato lo stadio perché è chiudibile nel senso che una volta che sono dentro per chiudere porte nessuno può più entrare e più uscire quindi la sicurezza è anche uno spazio che era gestibile dalle 150 persone che pensavamo a ottobre del primo anno alle 5000 che potrebbe gestire quindi è molto variabile ed è molto malleabile come posto cioè bella storia nel senso che mi aveva raccontato un po' e io sono sempre molto naturale non me l'aspettavo un inizio del genere perché nel senso è un risultato assurdo cioè 150-2500 immagino che poi lì tu che hai pensi di fare le cose fatte bene però poi dopo 2500 dici adesso qua devo soddisfare 2500 persone non deludere nessuno ho 16 anni ho mille cose da pensare quindi beh innanzitutto l'idea era tua da chi è partita? sì è partita da me la mia compagna che appunto perché tutti si lamentavano che andavate alla Colorani Colorani Torino diluviato quindi tutti si lamentavano sono tornato fino a Torino per farla è diluviato quindi non ho neanche potuto correre ho detto ma perché andiamo fino a Torino? portiamo la biella e poi adesso mi parlerai anche di tutti gli altri componenti come li avete uniti tutti i pezzi poi pian piano anche di chi ci lavora dietro che magari non si vede sempre il primo staff è stato uno staff di ragazzi di quarta che facevo io e quinta altri ragazzi che erano rappresentanti dell'istituto del Buona e con i contatti cioè i rappresentanti dell'istituto del Buona hanno sentito gli altri rappresentanti siamo andati a presentare questo progetto nelle varie scuole e presentavamo mi ricordo il primo anno adesso ho fatto una presentazione stamattina allo scientifico fighissimi con il nostro video con il nostro ormai è una cosa rodata primo anno presentavamo la Color Run di San Francisco quindi c'erano 20.000 persone questa Color Run tutti si aspettavano chissà che infatti gli dicevamo guarda ragazzi cioè noi presentiamo una cosa del genere però non verrà mai una cosa del genere e però è venuta è venuta comunque molto bene infatti tutti dicevano sì bellissimo ma tanto non ce la farete mai in pochissimi ci hanno appoggiato il primo anno e quindi sto molto e sto il doppio più complicato perché a gestire noi la scuola nel senso che noi facciamo tutto in orario extrascolastico quindi gestire la scuola e gestire questo impegno studio che è un impegno e poi il primo anno adesso abbiamo un sito che ha fatto lui in poche parole nel primo anno era una tabella Excel dove noi andavamo a scrivere ogni scritto a mano cioè c'era gente che si scriveva sul foglio e non ancora ricopiare e fargli link e andare a chiedere i soldi uno a uno no qua so come funziona perché con Filippo lì dietro abbiamo più o meno stiamo iniziando un qualcosina anche noi che ora è inutile esporre però è comunque sempre legato a questa cosa delle interviste e quindi so cosa mi stai dicendo a livello di Excel piuttosto che avere poi un sito web cioè togliere orate notate di lavoro però è solo questione alla fine di di farsi il mazzo quello che dico sempre io mi raccontavi anche tu come mi raccontavano i ragazzi a cui ho già fatto l'intervista di questa situazione di critiche non critiche io penso che semplicemente ci sia una una linea sottilissima che divida chi fa da chi non fa che è proprio il fare nel senso che chi fa e chi parla come è questo chi fa alla fine non parla mai e chi non fa parla e tanto sta seduto nel senso che è facile lamentarsi del lavoro della casa di essere sfortunato a non avere magari i soldi in famiglia sono cose che senti in continuazione però poi quando magari hai l'idea tu sei uno che no ma va ma chi me la considera e un altro come te non ha niente in più di te ha la stessa idea però al posto di pensare no ma qui mi prendono in giro mi criticheranno eccetera fa va incontro a tutte le problematiche excel è solo una delle tante immagini che abbiamo avuto perché comunque un sito web costa e chi si è informato sa i costi che può avere un sito web eppure c'è sempre un modo per andare avanti mettere un piede in più sullo scalino fino ad arrivare poi in cima e mi sembra che ci stiate arrivando molto bene anche mi hai praticamente detto e fatto capire in tutti i modi che voi con l'età che avevate quindi 16 anni avete avuto in lei una genialata pazzesca perché comunque una donna che ha già una sua attività che ha già visto determinate cose che noi soprattutto a quell'età non avevamo ancora visto è stata ed è tuttora fondamentale certo no poi è un rapporto attualmente che va anche oltre a tutto quello che è della core school nel senso che io la sento in certi periodi più di mia madre la sigla nel senso veramente poi da adesso in poi la sento veramente ogni giorno almeno 4-5 volte al giorno per telefono parliamo di tutto perché ormai è stata una confidente ed è una socia nel senso una persona su cui mi posso appoggiare per tutte le idee bella core school altri progetti che abbiamo in ballo con bella color sempre però è un rapporto molto più strutturato cioè nel senso non è solo bella color è questo che ci differenzia cioè che tutti noi di bella color school andiamo anche oltre a bella color school non rimaniamo solo ci dobbiamo lavorare dalle 8 alle 10 e basta poi ciao cioè no no secondo me la cosa che vi distingue vi contraddistingue più in assoluto a quello che sto vedendo e capendo che mi racconti è la disponibilità perché comunque è una professoressa e non è scontato secondo me che si metta così a disposizione come mi hai parlato di tot ora al giorno tot volta al giorno in cui parlate eccetera perché lei comunque ha il suo lavoro ha la sua attività eccetera e in più anche questa cosa qui quindi la disponibilità che avete voi nei suoi confronti lei nei vostri secondo me è la cosa che probabilmente vi fa andare così bene in quello che ho fatto gli altri ragazzi con cui lavori cioè quanti siete attualmente in associazione siamo in 6 ok tu che ruolo hai io sono presidente dell'associazione ok poi c'è Ludovica Reinaldo che è la vice presidentessa Silvia la tesoriere la segretaria e poi c'è un altri componenti che fanno un lavoro cioè nel senso io senza il lavoro veramente non saprei neanche dove andare perché tutti noi lavoriamo gratis per bene la cosa nel senso nessuno che prende un euro lo facciamo tutti per passione quindi da Silvia che mette il suo tempo a disposizione oltre la scuola oltre la sua attività ai ragazzi che oltre all'università fanno questo io oltre al mio lavoro faccio anche questo quindi è veramente un atto di volontariato chiamiamolo così però lo facciamo col cuore perché ci piace cosa stiamo facendo ok cioè senza un regolo di rollo il ragazzo che ci segue la comunicazione veramente non saprei dove andare perché lo chiamo alle 3 del mattino lo chiamo alle 3 del pomeriggio lui un secondo dopo fa cosa c'è da fare cioè la disponibilità è assoluta ma di tutti cioè Gregorio è un esempio di tutta l'associazione devo ringraziare di trovare queste persone qua e non siamo in tantissimi c'è vedo altre associazioni a Biella che sono in 40 30 però c'è il lavoro alla fine lo fanno sempre gli stessi quindi io preferisco essere in meno ma che tutti sappiano cosa fare che facciano loro che essere in tanti per dire siamo in tanti e poi a fine il lavoro lo fanno sempre gli stessi sì esatto anche perché poi in una azienda che poi si è un'associazione una società o quello che è ci sono i leader e ci sono quelli che si siedono magari un po' in fondo e aspettano di salire poi sul carro io dico sì aspetta la gloria tu in qualità di presidente qual è la responsabilità più grande che hai perché comunque sei qui adesso l'intervista uscirà probabilmente nel weekend prossimo magari nel pomeriggio ma qua sono le 10 le 11 di sera tu sei qui come rappresentante di questa Biala Color School sei il presidente quindi qual è la tua più grande responsabilità all'interno di questa cosa se una persona soltanto si fa male vado nelle gare io cioè nel senso io rispondo per 4000 persone che sono dentro lo stadio quel giorno lì e comunque farlo quando ho 18 18 anni un giorno ero presidente di Biala Color sì perché prima non potevi prima non potevo perché ero minorenne ma non esisteva neanche Biala Color lo facevamo appoggiandosi ad un'altra associazione quando sono venuto il minorenne quell'anno lì abbiamo creato Biala Color School e dal primo ottobre facevo l'intervento a settembre sono detto presidente di Biala Color School e io e Silvia ci gestiamo a metà lei dice la parte amministrativa quindi responsabile per la parte amministrativa e anche tutto il resto perché senza Silvia ripeto mille volte lo ripeterò altre mille non facciamo nulla non farei nulla e io mi gestisco la responsabilità nel senso che anche delle persone penso che le persone che lavorano per Biala Color lo fanno per avere un'esperienza nel senso che ognuno lo fa nel campo di studio nel senso penso Ludica fa videomaker cioè va progettazione comunicazione visiva e quindi anche tutta la progettazione dei video di Biala Color di presentazione l'after movie e cose così è un'esperienza in più che porta per un suo lavoro futuro quindi lo facciamo tutti nell'ottica di crescere quindi tutti ed è una responsabilità per me nei loro confronti perché loro hanno delle aspettative alte che io devi rispettare esatto cerco di soddisfare provo in tutti i modi se di prima che ti immagino gli altri componenti vuoi finire di dirmi gli altri nomi allora Ludica Reinaldo Rioro Di Rollo Daniele Neggia Matteo Squara poi c'è Silvia De Bianchi io Margherita Tonelli Andrea Borgogna Andrea Borgogna e Margherita Tonelli rimangono come partner amichevoli perché Margherita ha un lavoro parecchio impegnativo di andare nelle marche però comunque quando c'è da far cena cena ah ok a tavola esatto Margherita è responsabile delle cene sbronze nel senso che ogni tanto ci troviamo e ci sta beviamo anche noi siamo persone umani e quindi lei si occupa di quello quindi per divertirci loro ci sono sempre è una bella famiglia che appunto come dicevo prima va oltre bella color e quindi ci troviamo anche fuori è normale cioè nel senso quindi questa cosa molto anche amichevole proprio nell'intimo anche tra virgolette molto facile da gestire questo rapporto tra amicizia e lavoro nel senso quando poi c'è da lavorare tutti lì con la testa si lavora è anche bello un po' l'atmosfera che si crea per lavorare nel senso che se devo lavorare con gente che le sopporto solo per lavorare non lavoro non lavoro con voglia ma invece facendo così mi trovo a fare unione alle 10 di sera al venerdì sera dove vorrei se non vorrei non volessi non volessi non volessi essere lì non ci sarai invece perché ci sto bene e quindi la base la base di questa intervista è la base delle persone che io voglio intervistare è che non importa quello che fanno non importa il conto in banca dico sempre però importa amare quello che si fa perché non c'è tanto tempo secondo me quindi se ami davvero fare una cosa la fai proprio anche bene i risultati li vedi prossimo evento dai spoilerci qualcosa dici qualcosa 24 aprile sempre lo stadio sempre solita gestione nel senso che seguiamo una strada che è sempre quella che ci ha portato a successo di questi anni la serata sarà di star life quindi sarà ancora una serata allo stadio in pre vendita e ci sarà un ospite anche quest'anno questo posso dire nel senso non posso dire chi perché non ho ancora firmato il contratto e sennò vado in penale o pagare soldi non c'ho voglia chiaramente i ragazzi che vanno qua dietro hanno l'ingresso maggio ah beh certo è vero è vero possiamo fare un'intervista sul palco della color ah beh bell'idea poi se ne può parlare magari intervistiamo tutti quanti esatto mi hai dato praticamente tutto di quello che fai all'interno della color però mi stavi parlando prima che non gestivi solo questo quindi immagino che tu facci anche un altro lavoro anche perché se mi hai detto che lo fai solo col cuore perché essendo un'associazione non guadagnato un euro questa cosa mi hai detto che ci tenevi anche a dirla fai qualcos'altro ti occupi sempre di qualcosa simile a questo totalmente diverso io ho lottato parecchio per far sì che Biella Color School diventasse un lavoro ma è quasi impossibile appunto perché è un'associazione non profit quindi ho avuto la fortuna di fare un lavoro che sia simile nel senso che gestisco sia Biella Color e altri eventi per un'azienda qua di Biella quindi mi occupo sempre di questo bel mondo che ho dovuto far parte sì perché stai cercando di fare diventare la tua passione il tuo lavoro quindi sicuramente quello che state facendo all'interno della Biella Color School è una bella esperienza a livello proprio di crescita personale che come dicevi già prima ognuno nel suo settore gli potrà permettere di fare davvero qualcosa di importante senti ti chiedo se ti è piaciuta questa intervista perché a noi personalmente è piaciuta molto e perché consiglieresti di guardarla allora indubbiamente io noto che tantissime persone tantissimi ragazzi qua a Biella hanno voglia di fare credo che il nostro può essere un esempio per loro per non mollare mai nel senso credere nelle loro idee e anche se hai tutti contro nel senso che noi ai primi anni avevamo tantissime persone contro però senza mollare siamo arrivati ai risultati che abbiamo ottenuto e quindi credo che i ragazzi che adesso non vogliono fare possono fare non farsi scoraggiare da questi chiamiamo di mostri che possono fermare i loro sogni ecco sì poi una parte molto importante secondo me è il saper ascoltare anche quindi voi personalmente siete stati molto umili anche nel nel prendere esempio spunti e consigli da questa persona da questa vostra professoressa perché molto spesso soprattutto ragazzi della nostra età oltre il grosso problema del non credere a volte c'è la situazione contraria cioè la presunzione di saper già tutto di pensare di essere già arrivati dopo un minimo risultato ottenuto e quindi cosa succede che arriva una professoressa una persona comunque più grande che ti dà un consiglio ah ma dai ma tu fai il tuo lascia stare faccio io eccetera quando invece dice c'è gente più grande di noi che non ti vuole dire qualcosa per forza per buttarti giù ma anzi te lo dice perché magari ha visto cose più di te e quindi te lo sta dicendo perché ti può aiutare a non fare magari i suoi stessi errori quindi sicuramente l'umiltà è un vostro grande pregio ed è un punto di partenza un grande punto di partenza per chi vuole cominciare a realizzare un suo sogno un suo grande sogno chiudo ti ringrazio vi ringrazio ti ringrazio nello specifico di aver portato la vostra testimonianza di quanto state facendo noi vi aspettiamo qui magari di tutti gli altri anche è un po' più complicato e noi vi aspettiamo in Biela Collor cioè tutti qua noi vi aspettiamo in Biela Collor perché qua dietro ci sono tante persone che lavorano e noi le ringraziamo tutte e ci saremo senz'altro magari sul palco porteremo questa testimonianza però ci siamo divertiti e questo è l'importante quindi ti ringrazio Matteo alla prossima grazie